This is you and I, there is no one in the room La rete esplode con bombe, bombe VAMO CARACO Bomba da bomba da bomba bombe Questa è la vita da bombe Sogno una vita da bombe Lo stadio muore il suo bombe La rete esplode con bombe, bombe VAMO CARACO Bomba da bomba da bomba bombe Questa è la vita da bombe Sogno una vita da bombe Lo stadio muore il suo bombe La rete esplode con bombe, bombe Very strong friends Signoras, i signores, muy buenas tardas, tardes First reaction, shock Shock because Ma che cazzo dici? Un po' emozionato, quando arrivano i pacchi A volte mi arrivano il bigliettino Eccolo qua Buon beer, grazie Bobo E' spettacolo Come sono rimasto scioccato Dalla pancia che avevo La storia di bomber contro gilet Ma non è pancia, è una maglia Però sto mangiando un pannello col prosciutto Pane nero Pane nero Tenta ingrassare Dobbiamo rifare la partita Quindi settimana prossima chiamo tutti Settimana prossima chiamo tutti Organizziamo la partita Giletto bomber contro chimica Pesano gli occhiali Paraparampa voglio chiedere a voi come facciamo questa canzone it's friday now questo qua doveva farlo lunedì, martedì, mercoledì tutta la settimana e cosa doveva aspettare venerdì? l'ho messa prima uno mi ha detto ma non è venerdì allora che facciamo qua? grazie Bobo grazie, grazie guarda qua non vedo l'ora di assaggiarla grazie 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 già scusate un attimo è ora uscita la notizia che ho messo la foto della notizia che è uscito sulla gazzetta cioè conte va via veramente cioè c'è l'accordo per andar via sembra strana vuoi che non so cosa dire c'è dopo lo scudetto così se ne va c'è da capire in questi giorni come mai è una notizia sciocche risoluzione del contratto ma c'è già capiremo nei prossimi giorni ragazzi capiremo nei prossimi i giorni cosa sta succedendo non ci credo non so perché ma non non credo sia possibile il campionato che hanno fatto così ragazzi allora ragazzi vogliono vedere la tua donna vogliono vedere teo notizia shock notizia shock conte è andato via io sono scioccata la interista proprio no come non me l'aspettavo insieme non me l'aspettavo ragazzi cosa ne pensate voi non ci credo Grazie a tutti E' successo di tutto in questi giorni, quindi Conte non c'è più, Allegra è la Juve, secondo voi chi prende l'Inter? Fatemi sapere. Sono arrivate le felpe e i colori che volevo io, secondo me è troppo grande, ormai sei magro, sei un figurino, ma sei un po' grandina. Allora, tuoi qua, poi guardate questa, questa è la mia preferita. Bella Con il costume Mamma mia Spettacolare Yes, sir Yes, sir Ciao